Cari amici ben ritrovati e buon inizio di settimana. Si ipotizzava che una lingua gelida avrebbe raggiunto il Mediterraneo, ipotesi spazzata via dalla mancata collaborazione tra anticiclone scandinavo e subtropicale, che invece permetterà solo la virata di correnti fredde verso ovest, permettendo solo di penetrare ad una lieve depressione atlantica. Qualche nevigata più intensa, anche se a quote basse, sarà possibile per l'epifania sia sui settori alpini che su quelli appenninici. Ed anche l'inquinamento che in questi giorni sta creando non pochi problemi dovrebbe migliorare entro fine anno grazie all'arrivo di venti freddi orientali. Salvo una lieve perturbazione, il tempo per i prossimi giorni si manterrà buono. Tra giovedì e capodanno si prevede l'inserimento di aria fredda da est, specie al nord, in Adriatico e dal sud, ma senza conseguenze, mentre nel fine settimana la variabilità del tempo potrebbe determinare qualche precipitazione al centro-sud. Ma vediamo adesso il tempo per la giornata odierna. Nubi al nord, in un contesto comunque soleggiato. Al centro nubi su Toscana e nebbie nelle valli appenniniche. Al sud bel tempo. Sulla nostra provincia qualche nube sparsa. Le temperature si porteranno ai 15 gradi diurni e 11 nella notte. Venti deboli soffieranno da nord-ovest, con il mare nello stretto di Messina poco mosso. Sul versante tirenico nubi sparse. Le temperature si porteranno ai 15 gradi le massime e minime di 10 e diventi deboli soffieranno da nord-ovest, da nord nel pomeriggio e da ovest-nord-ovest nella sera, con il martirreno poco mosso. Sul versante ionico giornata serena e soleggiata. Le temperature si porteranno ai 16 gradi diurni e 7 nella notte e diventi deboli soffieranno da nord e da nord-ovest nella sera, con il marionio poco mosso. Nella giornata di martedì 29 dicembre nuvolosità sparsa al nord, al centro e sulla Sardegna, ma senza piogge, salvo qualche piovasco previsto sulla Liguria e sulla Sardegna. Tendenza comunque a miglioramento. Sulla nostra provincia qualche nube di passaggio. Le temperature si porteranno ai 15 gradi diurni e 11 nella notte. Venti deboli soffieranno da nord-ovest con mari poco mossi. Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani.